Buongiorno ragazzi, questa lezione in più parti tratta il tema dell'architettura in Italia fa le due guerre. È un tema complesso, articolato, che riflette per certi versi un contesto molto contraddittorio e sospeso fra razionalismo, ritorno a classicismo e monumentalismo retorico di regime. Nei primi anni venti il dibattito architettonico sulla questione dell'abitazione, le grandi innovazioni del razionalismo tedesco e francese non interessano l'Italia, è piuttosto arretrata sul dibattito architettonico, tanto che uno dei primi ad allontanarsi ancora dal liberty e ancora dallo storicismo ottocentesco era stato il milanese Giovanni Muzio. Dei primi anni venti è la sua cosiddetta Cabrutta di Milano, un edificio residenziale composto da due blocchi, tra via Turati e via Moscova a Milano, in cui Muzio ripropone elementi architettonici classici, ma reinterpretati in modo più originale. Vi può sembrare un progetto accademico, storicista, invece in realtà è una svolta per l'epoca, perché appunto reinterpreta gli elementi classici con più fantasia, con meno aderenza, quasi volesse ritornare ai primi autori del rinascimento che reinterpretavano in modo libero e personale e originale gli elementi dell'architettura classica. Il portale che lega i due complessi è senza tempo, è una sorta di interpretazione dei precedenti antichi come la serliana o come l'arco di trionfo, eppure questo arco non appare né antico né moderno, è un'architettura astratta, metafisica, come sono metafisiche le architetture dei disegni di De Chirico, che sembrano riflettersi anche nelle opere mature di Muzio, come il Palazzo della Triennale a Milano. Le architetture di Muzio, legate anche al movimento artistico novecentista, non riscontrano un grande successo, pensate solo all'appellativo brutta dato all'edificio dei milanesi, e queste architetture erano le più, tra virgolette, rivoluzionarie degli anni venti in Italia. Capite dunque che il contesto era molto più arretrato rispetto al dibattito europeo sull'architettura portato avanti nel resto d'Europa. In Italia si può parlare dell'architettura moderna solo alla fine degli anni venti, quando un gruppo di giovani laureati del Politecnico di Milano fonda il gruppo 7. Stiamo parlando dei grandi nomi del razionalismo italiano, Luigi Fogli e Figini, Gino Pollini, Giuseppe Terragni, Frette, L'Arco, Bottai e Rava, a cui si aggiunge poco dopo anche ad Alberto Libera. Il gruppo nasce con l'intento di promuovere attraverso alcuni progetti significativi, attraverso alcuni scritti, l'architettura moderna in Italia. Le loro parole infatti recitano la nuova architettura deve risultare da una stretta aderenza alla logica e alla razionalità. Il gruppo firma collegialmente un solo progetto, quello per la casa elettrica per la triennale di Monza del 1930, finanziato dalla stessa Edison che aveva tutti gli interessi a rendere manifeste le possibilità della corrente elettrica anche per migliorare la vita quotidiana. Questa casa, questa villa elettrica, come la casa elettrica costa lire 60.000, vedete che c'è anche il prezzo, questa casa presentava soluzioni tecniche molto innovative. Le pareti sono attrezzate, i mobili sono funzionali e salva spazio e c'è una grande ricerca anche sui materiali. Per esempio, viene utilizzata la gomma per la cucina e anche per le tende, per essere lavabili fondamentalmente, oppure la celluloide per la chiusura delle credenze. Vedete quindi questi spazi aperti, funzionali, che seguono gli esempi d'oltrealpe. Gli architetti del gruppo, infatti, seguendo l'esempio di Le Corbusier, sostengono la necessità di un nuovo spirito che animi l'architettura, uno spirito in grado di coniugare lo spirito meccanico con lo spirito greco. Nel 1928 si tiene a Roma la prima mostra italiana di architettura razionale, una mostra fatta sotto la benedizione dell'autorità di regime. È interessante perché questi giovani architetti rimangono profondamente affascinati dalle esperienze razionaliste tedesche e anche francesi e anche se sono già mature. Ma rispetto al contesto tedesco, il contesto politico italiano è molto diverso. Il razionalismo tedesco nasce e si sviluppa nel contesto libero e democratico, seppur solcato a profondi contrasti, della Repubblica di Weimar. Mentre in Italia il regime è già al potere dal 1922. L'aspetto interessante è che negli anni venti Mussolini non ha ancora deciso perfettamente quale dovesse essere l'arte di regime e il linguaggio moderno, rivoluzionario dell'architettura razionalista poteva accordarsi con la rivoluzione antiborghese promossa dalla propaganda fascista. Nel 1931 viene organizzata la seconda esposizione di architettura italiana razionale, questa volta organizzata direttamente dal MIAR, Movimento Italiano per l'architettura razionale. Anche in questo caso la mostra si svolge sotto la benedizione delle autorità di regime e sotto il patrocinio del sindacato degli architetti. L'esposizione è inaugurata dallo stesso Mussolini che dichiara che l'architettura razionalista è vera espressione del regime. All'ingresso viene allestito il Tavolo degli Orrori, un collage di opere accademiche degli architetti più in vista. Ma per fare questo collage diciamo che esagerano un po', perché inseriscono anche pagine della Domenica del Corriere a cui gli italiani erano molto affezionati. E infatti vengono accusati di essere dei sovversivi, il sindacato ritira il patrocinio e la mostra viene chiusa prima del tempo. Ma Mussolini ormai ha individuato in questi giovani architetti coloro che potranno definire il linguaggio anche della propaganda di regime. E infatti chiama questi giovani architetti per realizzare la mostra della rivoluzione fascista nel 1932 per celebrare il decimo anniversario della Marcia su Roma. Per questa occasione il Palazzo delle Esposizioni di Roma, che era un edificio ottocentesco, viene modificato sovrapponendo alla struttura originale un cubo rosso scuro, con davanti quattro fasci littori in metallo chiodato. E si crea un'inedita commistione fra elementi nuovi, materiali nuovi, linearità e un impianto però ancora simmetrico e tradizionale della facciata. All'interno Terragni realizza una sala in cui crea una scenografia composita che è diciamo memore, ricorda il dinamismo futurista. Guardando queste foto possiamo capire che l'immagine che il fascismo vuole dare di sé al mondo è sicuramente decisamente all'avanguardia. All'inaugurazione della mostra il MIR dichiara alla stampa il nostro movimento non ha altra consegna morale che quella di servire la rivoluzione nel clima duro. Questa compromissione con il regime fin da subito si rivela ben presto un problema per il movimento, per il MIR ma non tanto un problema diciamo di natura etica, morale eccetera ma perché proprio si rivela un problema per la diffusione degli elementi veramente innovativi proposti da questa generazione degli architetti l'attenzione al funzionalismo, alla società eccetera perché i contrasti di idee con gli architetti tradizionalisti sono coperti da tutte le dichiarazioni di lealtà verso il regime e quindi si finisce per discutere solo di forme, di formalismi e i tentativi del gruppo 7 e del MIR svaniscono prima ancora di concretizzarsi in un vero e proprio movimento e infatti diciamo che il gruppo quasi quasi si scioglie e i migliori lavorano per conto proprio in piccoli gruppi e riescono a vincere alcune battaglie particolari singole alcune battaglie, alcuni elementi singoli rimangono veramente di pregio anche se inseriti nell'ambito dell'architettura di regime e queste battaglie particolari vengono vinte grazie anche a ruolo giocato da Piacentini l'architetto sicuramente del regime l'architetto del regime per antonomasia, attaccato e legato al potere che per accrescere il suo prestigio personale riesce a volte a mediare fra i nuovi architetti in via d'affermazione e le forze professionali più conservatrici un esempio emblematico per capire appunto questo ruolo di mediatore fra le due tendenze è sicuramente il caso della città universitaria di Roma nel 1932 viene affidato a Piacentini l'incarico di realizzare appunto la nuova università di Roma, quella che oggi è la Sapienza Piacentini progetta il piano generale una sorta di cittadella chiusa impostata su due assi ortogonali e si riserva la progettazione degli edifici più prestigiosi come i propilei, gli ingressi monumentali e il rettorato ma distribuisce anche i progetti ad altri architetti diciamo in modo un po' ecumenico fra architetti razionalisti ed architetti invece tradizionalisti il rettorato di Piacentini appare monumentale, simmetrico, gerarchico, retorico con echi di romanità nell'uso del travertino e delle lettere capitali a coronamento del portico un portico squadrato all'ingresso moderno solo perché appunto squadrato e privo di decorazioni lo stesso stile monumentale che troviamo anche nei propilei di ingresso per Piacentini potremmo dire che il moderno è una necessità che va diciamo addomesticata riportandolo ad un linguaggio ancora comunque gerarchico, rigoroso, classico, monumentale vi dicevo che Piacentini distribuisce i progetti degli altri edifici e comunicamente fra architetti razionalisti e tradizionalisti fra quelli razionalisti spiccano gli interventi di Capponi, di Ponti, di Michelucci e di Pagano ma se Capponi e Ponti costruiscono due edifici clamorosamente moderni l'istituto di botanica che nelle sue pareti vetrate richiama l'espressionismo tedesco o l'edificio di matematica giocato su andamenti curvilinei Michelucci e soprattutto Pagano cercano invece un altro modo per evadere dalla retorica Pagano nell'istituto di fisica accetta sia il vincolo volumetrico di simmetria con l'edificio di chimica di Aschieri di fronte sia il vincolo delle rifiniture che dovevano essere in clinker giallo e in travertino ma se osserviamo da vicino l'edificio vediamo che si distingue dagli altri sia per le spaziature ampie e variate delle finestre sia per la cura distributiva degli interni che sono anche arredati con mobili tipo tanto che il benevolo nella sua storia dell'architettura scrive che l'edificio di Pagano è il primo edificio italiano che può dirsi moderno non per intenzione programmatica ma per una reale innovazione nel metodo di progetto e nel risultato un'altra piccola vittoria per gli architetti razionalisti è quella ottenuta al concorso per la stazione di Firenze dove vince il gruppo toscano formato da giovani allievi guidati dal giovane professore Michelucci il ruolo di Piacentini nella giuria è determinante per l'esito del concorso ma è determinante anche il fatto che anche la parte più tradizionalista della giuria non è convinta che una soluzione tradizionale, monumentale, eclettica come si usava in quegli anni potesse veramente andare bene e fosse in accordo con il luogo infatti il luogo è molto delicato la stazione è in pieno centro e direttamente prospicente la chiesa di Santa Maria Novella il gruppo di Michelucci per questo propone una soluzione a sviluppo orizzontale molto bassa, un edificio semplice ed essenziale che riesce a non risultare antagonista con l'abside verticale e gotica della chiesa di Santa Maria Novella nell'opera ritroviamo un'attenzione funzionalista alla distribuzione degli spazi e alla loro riconoscibilità l'ingresso alle biglietterie è segnalato da grandi lucernari gli arrivi sono segnalati da grandi pensiline in aggetto e unita ad una inedita attenzione per i materiali che denota forse anche la conoscenza dei progetti di Wright infatti alle potenzialità tecniche dei nuovi materiali le strutture in cemento armato oppure l'acciaio brunito per le vetrate i vetri temperati per le vetrate della galleria sono unite al valore evocativo dei materiali della tradizione in particolare l'uso in facciata della pietra forte che era stessa utilizzata nella chiesa di Santa Maria Novella in modo da accordarsi senza copia, senza plagio con quello che c'era prima, con le preesistenze si instaura quindi un nuovo dialogo con le preesistenze che avrà importanti esiti anche nel dopoguerra